Buonasera, buonasera da Simone Merini, fatemi sentire con un grandissimo applauso, facciamo un grandissimo applauso per Fabio, giusto? Ecco Fabio, Radio Budrio, che sono qui bravissimi, che stanno seguendo in questi giorni continuamente questo grandissimo evento della Beer Republic Fest, in collaborazione con la bravissima e ottima pizzeria Le Mani di Aurora, facciamo un grande applauso naturalmente a tutto lo staff, anche della gastronomia, complimenti ai ragazzi, bene, vuoi rimanere qua? Mi fai da Valletto? Valletto, 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 no, scherzo, complimenti Radio Budrio che ci stanno seguendo, allora buonasera, buonasera da Simone Merini, io sono molto contento questa sera di essere qua, in questi giorni, in questi due giorni ho anche presentato questo grandissimo evento, rimanete con noi perché dopo, vero, c'è il bellissimo spettacolo del palco numero 5, che faranno un bellissimo tributo al grandissimo Lucio Dalla, a cui facciamo un grandissimo applauso, lo ricordiamo sempre, il grande Lucio.